La squadra antipatica? Beh, l'abbiamo vista qua, l'abbiamo vista poco tempo fa qua, che è un po' la falsariga del Real forte comunque, giocano entrambi con un 3-5-2, giocano forse secondo me un po' più di qualità il Serravez rispetto al Querceta, ha due attaccanti di categoria forti, difesa rognosa, diciamo che sì, è una brutta partita come quella che abbiamo giocato sabato, come quella che sicuramente ce ne saranno altre da qua alla fine, quello che ho chiesto ai ragazzi e nel momento in cui magari l'avversario, per bravura sua, ci limita nelle nostre giocate, ci limita nei nostri concetti di andare ancora più forte, di tirar fuori qualcosa anche nell'aggressività, nella cattiveria, nella volontà, che sono cose che l'allenatore te le può dire, posso motivarli e tutto, però quando magari non c'è la giocata o quelle cose pulite, di diventare bravi anche nello sporco, nello scaltro, nella furbizia, nel cercare di vedere quando magari un giocatore rispetto agli altri 10 è più in affanno, quindi cercare di fargli male sotto un certo punto di vista, capire subito perché non riusciamo a fare il nostro gioco e quindi trovare subito le alternative, dobbiamo aspettarcelo, sarà, l'ho detto prima della partita con Querceta, i punti cambiano, i punti nel girono di ritorno diventano più pesanti e per chi non vuole finire mischiato nella rotta retrocessione, un punto equivale a vincere un campionato, poi logicamente con il nostro ruolino di marcia che abbiamo in casa, sicuramente per il Querceta sarebbe stato più che una vittoria portarvi a un punto da casa nostra e noi dobbiamo quasi essere contenti che gli altri squadri ci affrontino così e essere quindi consapevoli della nostra forza ma sapere che è ancora più dura portare a casa la pagnotta. Poi dopo abbiamo visto, fai gol e ti si apre un'altra partita, fai gol e hai tre occasioni nitide da gol in 12 minuti, quando prima per 80 minuti hai fatto una fatica incredibile aprirla. Botti ha fatto una bella parata nel primo tempo, se vai sotto diventa ancora più brutta, ancora più rognosa da portare a casa. Il campo doveva essere un discreto? Ma il campo, avendo anche chiesto a Podestà e dai video che abbiamo visto, non è grandissimo, dovrebbe essere grande come il nostro campo d'allenamento, quindi dovrebbero mancare 3 metri e mezzo rispetto al Benelli, 4 metri rispetto al Benelli in lunghezza che è tanto, si sente la differenza, perché quando giochi si sente la differenza, però giocare su un campo bello sicuramente a noi piace. Non bleffo mai, quindi quello che dico è che metto in campo i migliori. Infatti non sarà della partita perché in questi giorni e nella partita non l'ho visto al meglio, comunque non avevano le gambe al 100%, quindi quando io devo guardare ho detto partita per partita e quindi ho tirato le conclusioni dalla partita di domenica, logicamente non posso cambiare tutti perché dopo andrei a snaturare e quindi non porterei la miglior squadra in campo, quindi dove posso cambiare mettere forze fresche? che metto, dove secondo me la bilancia tra il tirarlo fuori con gambe pesanti o lasciarlo dentro perché conosce, diciamo così, per far meno cambi, quando la bilancia pesa da una parte dall'altra in base a quello scelgo. No, no, parlando in generale. Secondo te, il passo dietro a tutti i domenici era stato un ottimo con la qualità, i singoli o era quello più corale? No, secondo me è stato più corale perché se andiamo a vedere, prendendoli singolarmente facendo la somma di tutti, tutti siamo stati un po' sotto, ma non tanto sotto l'aspetto della volontà, del non crederci o che non c'erano con la testa, è che avevano delle contromisure dove noi non siamo riusciti a fare il nostro gioco e secondo me il vedere che non creavamo come al solito ci ha un po' psicologicamente condizionati. Il sacoletto che non gira, il tuo segretimento perdo, i livelli che non ha, non ha termine nessuno che non ha. Ecco, allora sugli altri due sono d'accordo, però è collettivo quindi, non è… Cioè nel senso collettivo è singolarmente, però quando la maggior parte dei ragazzi è per qualcosa non sta dando il meglio di sé, allora diventa che la squadra è collettiva. Certo. Il meno peggio? Sì. Me ne sono accorto anche durante la rifinitura di sabato che avevo fatto, il cambio di dorsi, l'avevo fatto e sia nel primo tempo che nel secondo tempo e nella rifinitura avevo visto una netta differenza tra NAC a fare e infatti il dubbio era se partire o non partire subito con quella decisione. L'ho fatta e poi anche un'altra cosa che continuare a far gioco, continuare a offendere è molto più dispendioso rispetto a stare contratti a difendersi e l'altra cosa è che dobbiamo valutarla su tutti i 90 minuti la partita perché ok che il primo tempo la squadra avversaria rega l'urto, ci sta, voglio vedere se mi regge l'urto per 90 minuti allora lì bisogna andare al centro del campo e dargli la mano perché sono stati bravi. Sì sì hanno interpretato, siamo stati noi poco bravi, secondo me c'erano certe situazioni dove in un paio di passaggi potevi saltargli fuori e andargli a fare del male sia con dei cambi di gioco sia con un attacco diretto e l'abbiamo sfruttato male. Un signore così, non dovuto dire male, dunque tu sei il suo estimatore e quindi cosa ti ti senti indietro, non ti senti a prendere da ricordare? Non lo so e le ho parlato, aveva detto che non era lucido come al solito però era da Natale, da quando abbiamo fatto la ripresa era il giocatore che durante tutti gli allenamenti e tutto era quello più brillante, ma infatti le ultime partite le aveva dimostrate. Certo, capitano quelle partite dove non lo sai neanche, perché comunque non erano neanche che una partita passava 72 ore da una partita con l'altra, quindi aveva avuto una settimana per prepararla, ci sta l'importante a continuare, come mi ha detto ben lui, capire quando non sei al 100 e quindi perché già che un giocatore fa autocritica è già un grandissimo passo avanti e quindi chi sa che deve darvi più, sa che può far meglio e niente, capita a tutti avere la giornata no e l'importante è che sia un incidente percorso che poi è stato secondo me anche ben supportato da tutti i cambi che sono entrati, perché hanno dato un grande contributo a tutti quelli che sono entrati e siamo un gruppo, l'importante è che la bandiera del Ravenna vada più in alto possibile, poi che la porti uno, che la porti l'altro, l'importante è che alla fine sventoli la nostra bandiera. Cosa c'è un po' di bruciazione delle regni che fanno? Continuo a ripetere, siamo ancora a metà della tappa e siamo ancora per me tutti nel gruppo, c'è qualcuno che magari avendo 5 punti di vantaggio ha qualche possibilità in più, che sulla carta ha qualche possibilità in più, però noi vogliamo divertirci, quindi se possiamo noi fastidio glielo diamo fino alla fine, poi saranno loro che scrivono il loro destino essendo loro davanti. Qual è la chiave per aumentare il continuo anche nel rendimento di trasferlo? A parte secondo me le due partite di Mezzolara e Corregesi dove sono state approcciate e fatte in modo totalmente sbagliato e che secondo me era un po' all'inizio, ma anche lo stesso Sassomarconi in casa al pareggio. Successivamente i passi falsi in trasferta, se guardo Alcione e Progresso, sono partite che meritavano la vittoria, addirittura Milano hai perso. La partita pazza del Carpi la valuto sotto altre cose che da allenatore non le devo tenere mie perché non è giusto che commenti quelle cose qua apertamente. Però lo sappiamo, però secondo me è una maturazione di questa squadra costante, sappiamo che anche in trasferta andiamo a cercare di imporre il nostro, logicamente in casa loro possono avere qualche stimolo in più rispetto in trasferta dove un bollettino di guerra ti dice che al Benelli è difficile portare a casa punti, in casa possono essere più cattivi, più incisivi. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a limitare anche quelle situazioni lì perché Progresso ci hanno fatto gol su calcio d'angolo, quando noi avevamo fatto quattro occasioni su calcio d'angolo nitidissime per indirizzare la partita in quell'altro modo lì che a noi è congeniale. Quindi l'atteggiamento per noi è uguale, sappiamo che il Seravezza ha un potenziale offensivo importante e quindi dobbiamo cercare di fare il nostro limitando il contromovimento, il pugno in faccia quando si è scoperto, quello dobbiamo cercare di limitare.